L'anno 2024, il giorno 6 del mese di settembre in Roma, nel Palazzo del Quirinale, nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ai sensi dell'articolo 93 della Costituzione, presta giuramento il signor Alessandro Giuli, Ministro della Cultura. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Grazie. Del giuramento del Ministro della Cultura Alessandro Giuli, prestato oggi 6 settembre 24 in Roma, nel Palazzo del Quirinale, nelle mani del Presidente della Repubblica, è stato redatto distinto verbale, firmato dal giurante, dal Presidente della Repubblica e dai testimoni.